Sì, ma qua non finiscono più, perché Michael si fa dietro la madonna adesso. No, è lì, sta venendo. Cioè, passeremo la serata. Guarda Federico, torna indietro, torna indietro, torna indietro. Dov'è, dov'è, dov'è? L'ha visto, l'ha visto. Guarda quelli a fianco, dove si ha messo Federico? Ci sono tre a fianco, tutti che lo portano male. Fanno, fanno, fanno e li fanno scappare il pappagallone, no? Guarda Michael, guarda, guarda, guarda. Guarda quello che vuole dietro. Guarda, guarda Michael che vuole a giro. Michael dietro c'è spuglio. Cazzo, 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 cazzo. Ma li vedi quelli a... Come li guarda male? Come guarda questo? Federico guarda questo. Un ginocchiato lì vicino a quei tre. Michael dietro c'è spuglio, fermo. La mappa al giro. La zucca, la zucca. No, ma Michael si è mosso, no? Michael si sta muovendo, ma non ti ha reso conto che prende la testa? Che finisce più questa cosa? No, non finisce più. Tutti mochi di trinciline, no? Che vuole andare via. Un po'. Un po'. Vedi così prenderà le legnate da dentro. Mi accompagnano tutti tranne loro due. Perché io la prendo? Mi sto prendendo da fuoco.